La quinta elementare Allora stai sempre in quinta o vuoi andare anche in prima media? Vuoi stare sempre in quinta? Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Il Signore ha detto a tutti i cristiani, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Allora, diventate perfetti come il perfetto Padre mio che è nei cieli. Quindi mai fermarsi, progredire con l'aiuto di Dio, nell'amore di Dio. D'accordo? Ecco, adesso ti lascio andare. Avete visto che mi hai aiutato? Grazie. 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 Grazie.